729 casi di età compresa tra i 2 e i 97 anni su 4.953 tamponi analizzati, pare al 14,7% di positivi sul totale. Sono questi i numeri odierni dell'emergenza Covid-19 in Abruzzo, con l'aumento che porta il numero complessivo dei contagi nella nostra regione a quota 20.552. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 82, di cui 23 in provincia dell'Aquila, 13 in provincia di Pescara, 26 in provincia di Chieti e 20 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a 703, di età compresa tra i 62 e i 98 anni, 2 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti. 590 pazienti più 19 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 66 più 7 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 13.352 più 483 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle. Del totale dei casi positivi 6.454 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 221 rispetto a ieri. 3.988 in provincia di Chieti più 192, 4.200 in provincia di Pescara più 128, 5.511 in provincia di Teramo più 175, 208 fuori regione più 6 e 191 più 7 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Abruzzo sono stati eseguiti complessivamente 352.882 test.